1 2 3 pronti partenza via senza indugiare ulteriormente questo è il video dei super 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 favoriti e preferiti del 2013 per quanto riguarda il trucco per un momento temevo di essermi sbagliata e pensavo dentro di me no no devi dire 2014 invece no stavolta è giusto devo dire 2013 perché questi sono i favoritissimi e preferitissimi dell'anno che è appena finito e ci sono due pennelli uno è veramente favoritissimissimo uno è una veramente sorprendente sorpresa in attesa e poi ci sono un paio di tools e poi ci sono veri e propri trucchi e allora parto con i pennelli il pennello favoritissimissimissimissimo del 2013 è sicuramente questo che c'è stato assolutamente sempre tutte le volte che mi sono truccata questo è il pennello praticamente da rifiniture ed è il pennello di sigma si chiama p82 e qui trovate scritto tutto è un pennello fatto così è perfetto è fantastico non vi confondete i pennelli di sigma con le setole nere sono i pennelli che non funzionano e che hanno da sempre problemi ma questi qui i pennelli di precisione sia quelli da viso sia quelli da faccia sono stupendissimissimissimissimissimissimi sigma no sigma zoeva zuhifa come dicono i tedeschi zoeva come dicono da un po' di tempo a questa parte quelli del resto del mondo zoeva fa anche dei pennelli simili che però per quanto la qualità dei pennelli zoeva a me piace veramente molto però quei pennelli simili a questi non sono minimamente paragonabili ai pennelli di sigma quindi questo per me è fantastico che cosa ci faccio ci diffondo le polveri minerali sotto qui al contorno degli occhi ci rifinisco e ci amalgamo tutti i colori a fine trucco qui sotto le sopracciglia e per quanto io possa farci tutto sommato alla fine pochino con questo pennello però è veramente un indispensabile assoluto totale non c'è indispensabile più indispensabile di lui e allora il sigma p 82 il pennello che è una sorprendente sorpresa invece sarebbe questo il cabuchino di cremalux questo cabuchino zitto zitto da quando è entrato a far parte del mio ambiente domestico si può dire è diventato immediatamente ma senza che neanche io me ne sia accorta non è diventato neanche tanto un favorito lui c'è ci deve essere c'è sempre prima usavo due pennelli da cipria usavo un cabuchino verde e nero al verde un po' più grande di questo leggermente più grande di questo e poi usavo un pennello piccino un ibooki neanche tanto piccino in realtà però insomma un ibooki con il manico lungo di everyday no di elemental beauty e mi piacevano tutti e due moltissimo però per una questione forse più che altro di praticità perché vuoi mettere e portarti dietro due pennelli vuoi mettere invece e portarti dietro solo questo da quando questo è arrivato nella mia vita intorno forse ad aprile maggio giugno del 2013 e basta c'è stato sempre solo lui automaticamente come se io e lui ci fossimo sempre conosciuti e lui fosse tornato a casa e abbia detto beh adesso sono tornato e quindi adesso ci sono io vabbè e quindi questo era un altro favorito preferitissimo del 2013 e poi ci sono i due tools due tools che hanno a che fare tutti e due con le ciglia e allora uno è questo scusate io sono ripetitiva che cosa devo dire che cosa devo fare non posso inventarmi una valentina che non esiste posso essere solo quel po' che io in realtà sono e quindi uno è questo piegaciglia di H&M nella sua fantastica versione che cos'è questo rosa un rosa scuro forse un rosa scuro vagamente tendente al bordo si scrosta questo piegaciglia una volta ne avevo uno sempre di H&M che però era rosso così uguale ma rosso e anche lui alla fine si è scrostato questo si scrossa due difetti il difetto numero uno è che a distanza di mesi da quando l'ho comprato si scrossa si scrossa si scrossa e l'altro difetto è che la gommina qui per quanto sia facilissima da togliere e da lavare e per quanto sia veramente a me piace molto una gommina di gomma lucida vagamente appiccicosa fa aderire bene le ciglia senza portarsele via in maniera deleteria per quanto insomma possa avere tanti pregi questa gommina però si è già molto 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 allentata e ammollata rispetto a quando era nuova e giustamente quindi quando era nuova il piegaciglia funzionava meglio e funzionava di più ad ogni modo funziona anche adesso solo ecco bisogna tenere in conto con i piegaciglia di H&M che dopo 8 mesi io direi più o meno dopo quasi un annetto sarebbe ora di riacquestarne un altro poi alla fine non è una cosa così tanto grava perché un piegaciglia di H&M mi mangio un po' le lettere dell'alfabeto oggi in questo video un piegaciglia di H&M alla fine costa 2,90 euro se non ricordo male quindi non è un big deal comprarlo nuovo perché mi piace perché funziona bene perché io riesco ad andarci d'accordo riesco a mettere qui dentro anche le ciglia qui laterali basta trovare l'angolazione giusta questo è un piegaciglia che ben si adatta a chi vuole usare una certa pazienza e osservazione delle proprie ciglia delle proprie mani della pressione che le proprie mani hanno sul piegaciglia in combinazione qui con il piccolo utensilino questo è un piegaciglia per persone che hanno voglia di collaborare con gli oggetti da trucco io ho voglia e quindi mi ci trovo benissimo e niente piegaciglia di H&M c'è anche da dire che io sono come quelle persone che si sono sposate con il primo uomo della loro vita e allora dicono mi trovo benissimo ma tutto sommato alla fine non lo sanno che cos'è la vita con altri uomini e quindi lascio un po' il tempo che trova il loro dire con lui mi trovo benissimo ecco la stessa cosa io io mi sono sposata con questo questo è stato anche il primo piegaciglia della mia età adulta quindi non saprei che cosa dire probabilmente ce ne sono un miliardo di piegaciglia di piegacigli stavo per dire ma inegute ci sono tantissimi piegaciglia migliori di questo però a me piace questo e quindi vi parlo di questo e questo è stato il favoritissimo del 2013 e poi l'altro tool che è un tool che mi sta anche un po' antipatichello perché mi piacerebbe andare mi piacerebbe sapete si cresce i bambini piccini crescono a un certo punto si tolgono il pannolino da soli no imparano a fare la popò nel vasino ecco a me piacerebbe applicarmi il mascara nel vasino nel senso senza questo affare senza questo aiutante da mascara questo come si usa si ripiega questo affarino qua oppure si tiene alzato come vi pare si mette qui sopra e con questo si alzano le ciglia oggi ho problemi proprio con la parola ciglia e poi spla 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 come ho detto tante volte si applica il piegaciglia si applica il mascara senza neanche guardare dove lo si sta applicando perché tanto questa parte qui di questo utensilino fa in modo che la palpebra non si sporchi poi se doveste aver applicato troppo mascara con questo pettinino andate a ripulire il tutto e con questo io mi sono trovata bene perché pratico perché la mattina mi aiuta e invece di metterci dieci minuti a mettermi i bislacchi mascara dell'alverde che insomma che funzionino tantissimo bene ma neanche tanto bene diciamo sono un po' mediocre e faccio tutto con questo e con questo ci metto tre secondi però chiaramente sarebbe meglio riuscire ad avere una manualità decente riuscire a mettersi in piegaciglia senza bisogno di aiutanti e poi adesso ci sono i rubini da trucco e sono tre anzi sono quattro dico che sono tre perché qui fisicamente ce ne sono tre un favoritissimo l'assoluto favoritissimo preferitissimo del 2013 dice è stato sicuramente è stata anzi una femmina sicuramente la pasta gialla della santè ossia un coloretto sciocchino dentro una piccola jarra un coloretto giallo fatto di una pasta strana appiccicosa oleosa sugosa che non si asciuga mai e che io per un anno ma forse anche di più che per un anno ho messo qui non qui sotto l'angolino non a riempire l'angolino sotto le sopracciglia ma qui in questa piccola sezione tutte le volte che mi sono truccata mi sono dovuta mettere la pasta gialla della santè perché mi piace tantissimo perché è un affarino che originariamente serviva e viene venduto la santè per truccare i bambini a carnevale per dargli il contentino di truccarli e di colorare loro la faccina però io me lo sono comprato per 2,90 euro mi sembra di ricordare come il piegaciglia di H&M allo stesso prezzo più o meno ma dipende da dove lo comprate nei supermercati fisici qui in Germania nei supermercati bio quando si trova costa un pochino di più e me lo sono comprato mi è piaciuto subito ci sono andata subito d'accordo quindi la pasta gialla della gentè c'è stata sempre 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 un altro signore che c'è stato sempre è questo questa è una polvere minerale di everyday minerals si chiama Ossipark Me Up inutile che io giri la jar perché non si vede più niente si è cancellato tutto e adesso è buio e sera quindi come faccio a farvi vedere la polvere qui dentro c'è un pochino di ovatta a tentare di arginare l'arginabile perché altrimenti succedono cose strane questa polvere è una polvere iridescente che come colore ha un color carne iridescente che sto dicendo è leggermente riflettente non è iridescente eh vedete non si vede niente ma va bene così l'ho fatta vedere un miliardo di volte in un miliardo di outfit e poi oltretutto non la fa più everyday minerals quindi è diventata introvabile ad ogni modo a me piace tantissimo fin quando non finisce ossia per i prossimi dieci anni vi parlerò di questa polvere minerale mi piace tantissimo perché prima di tutto la sua colorazione dicevo è un color carne ma è un color carne che si trova a metà strada tra un tono freddo e un tono caldo che è il genere di mix che mi piace sempre gira che ti rigira io vado sempre a sbattere contro quei colori che sono a metà tra tono caldo e tono freddo perché evidentemente la mia faccia è fatta anche di toni caldi e di toni freddi evidentemente non ne sono sicura non me lo sono mai chiesto seriamente mai veramente mai perché è un qualcosa che non mi interessa non usando io fondotinta non avendolo mai usato nella mia vita quindi non devo risolvere più o meno queste questioni mi servirebbe risolverle per capire quali colori realmente quali tonalità dei colori mi stanno realmente bene sugli occhi e sulla faccia ma non me ne preoccupo più di tanto vado allo sbaraglio, all'avventura come ho sempre fatto a naso altrimenti che ce l'ho a fare sto naso e questa cosa questa polvere minerale è cremosa a sufficienza si stende bene io la uso sempre in combinazione con questo pennello questi due vanno insieme vivono insieme e niente, mi ci sono sempre trovata bene rischiara tutta la zona dell'occhio ma la si può mettere dovunque basta lasciar spaziare la fantasia altro favoritissimo del 2013 altra favoritissima è sicuramente la soft mocca dell'alverde qui l'ho ricomprata per questo è così lunga lunga la soft mocca dell'alverde per farci il contorno delle labbra ormai io e questa matita viviamo insieme se io esco di casa lei è sulle mie labbra di questo ho parlato talmente tante volte non mi va di parlarne ancora e poi ultimo ma non ultimo favoritissimissimissimo di sempre non solo del 2013 è il toffè il toffì di Benecos ossia un rossetto che però per me è più che altro uno stick bronzer nel senso qualche volta me lo metto anche come rossetto ma come rossetto ha una certa violenza sulle labbra non so come spiegarlo bene ha una certa violenza mattonata che rende le labbra particolarmente esposte quasi in una maniera un po' oscena non lo so sì mi piace quando mi sento quando mi sento in grado di poter portare a spasso sulle labbra il toffì di Benecos se sia a volte me lo metto tamponato però con un fazzolettino non a pieno colore perché ripeto a volte assume dei modi di sostare di starsene parcheggiato sulle labbra quasi al limite con lo sceno veramente non riesco a trovare un altro modo per spiegare la mia sensazione quando ho il toffì sulle labbra è per me uno stick bronzer faccio le strisciatine di colore la mattina nel bagno e poi diffondo tutto con le dita mi ci trovo benissimo anche perché si stende stupendamente sulla pelle sembra nato per questo uso il toffì di Benecos e quindi questo è stato il mio bronzer principale primario e preferito soprattutto per tutto il 2013 e signori qui con queste poche macchioline di colore sulla mano abbiamo finito il video dei favoritissimissimissimi del 2013 è già finito mi spiace ancora una volta lo ridico mi spiace perché sono ripetitiva non sono andata ancora a riguardare il video dell'anno scorso del 2012 dei favoritissimi del 2012 ma secondo me sono gli stessi e se non sono gli stessi sicuramente ci sono dei pezzi che sono assolutamente uguali sono gli stessi pezzi che ci sono in questo video va bene mi mancano le paroline vedo che mi comporto precariamente nel 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 così nel cimentarmi nel mettere insieme frasette con la lingua italiana e quindi vi lascio me ne vado da questo video me ne vado vi lascio qui voi se volete continuate a guardare qui il vuoto er nulla er niente ciao me ne sono andata ciao 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 ciao